ciao a tutti bentornati qui sul nord fisici marsh come potete vedere o come già avete visto dalla copertina ho finito la nuova disposizione dei mezzi in esposizione qui al mio negozio ho sostituito un po di trattori in qualche ci ho messo qualche mezzo in più meditrebio l'ho sostituita mi sembrava mi sembra un po più completo è un po più bellino rispetto a quello che potete almeno a me piace di più è una cosa individuale rispetto a quello che potete scaricare dal dal sito di fedex un let's play che colui che ha fatto la mod la mappa inizialmente c'erano i trattori sono uguali questi qua aspetta questi qua sono uguali questo questo mi sembra che c'era ho aggiunto qualcosa comunque vi faccio vedere una foto dove potete vedere come era la disposizione prima questo è il frontale con i trattori da meditrebbia così questo è il pacchetto che potete scaricare direttamente dal sito va scaricato è un piccolo filettino poi dovete inserirlo nei vehicles nella cartella xml questo per dire qua che vediamo adesso è il laterale ok il laterale che vedete del del pacchettino che scaricate mi sembrava mi sembrava più bello cambiarlo un po almeno a me è piaciuto sostituire qualche mezzo comunque se volete scaricarlo trovate lo trovate sul sito di fedex un let's play sotto in descrizione trovate il link dove andare a scaricare la mappa e dove andate a scaricare la mappa a fianco c'è anche il link per scaricare i mezzi che poi dovete andare a installare nella cartella xml c'è anche un video che spiega come farlo è in tedesco ma è abbastanza intuitivo ok andiamo invece a vedere la disposizione qui dei nuovi mezzi che ho messo ci ho messo io come potete vedere qui ho messo il 4 h della case con un bel arato questo caso è chiuso poi due piccolini qua davanti ci ho messo i due fans con diverse disposizioni adesso un attimo che mi abbasso un po così lo vediamo meglio vedete uno è proprio con le ruote strette pronto per dare il fertilizzante quello che è invece questo è una versione sempre la stessa versione però con il gemellato sicuramente già vedete all'interno cosa ho fatto perché anche all'interno del negozio ci ho messo due mezzi ho messo due belle trinciatrici e quello della crone è quello della class all'interno no qua davanti ci ho messo una botte qui anche a disposizione la il materiale per la neve mi sembrava giusto visto che comunque abbiamo la neve su questa ma qua mi sembrava giusto metterci anche il materiale per che serve per spalare la neve qua ci ho messo anche dei sacchi per il sale quello da spargere ce n'è anche all'interno adesso ci andiamo e i due rimorchi che mi sembra che ne ho sostituito solo uno uno già c'era questo il carrellone qua per i cavalli era era c'era già nel pacchetto quello di che avevo scaricato inizialmente l'ho lasciato mi sembrava bellino lasciarlo lì e l'ho lasciato qui e invece qua all'interno ci ho messo il vetro qua ci ho messo quella trinciatrice è una bella big x e ci ho messo poi anche questa qua con i due lame diverse uno per il mais l'altro per trinciare l'erba e qua davanti ci ho messo di nuovo dei sacchi per il sale ci voleva mettere il fertilizzato che cosa del genere ma alla fine e noi fertilizzati il fertilizzante o i semi ma alla fine mi sono deciso per questi e niente ci ho messo un po non è difficilissimo da fare l'unica cosa che anche loro consigliano di non utilizzarlo se giocati in multiplayer anche perché questi hanno un id diverso dal mio perché altrimenti io qua ci potrei salire e scendere e ogni volta che passo da un mezzo all'altro non c'è a diciamo che come costi come costi della della mia della mia azienda invece così in questo momento in questo caso loro sono solo in esposizione da vedere li possiamo spostare se abbiamo un po di forza in più andiamo a vederla perché non sono né incollati niente li possiamo spostare nel momento in cui li spostiamo quando facciamo ripartire il gioco loro si rimettono posto ma mi sembrava oggi ci ho giocato un po e alla fine dico vabbè ma sai che mi piace un po più così con qualcosa in più qualcosa di diverso e alla fine l'ho lasciato se voi siete interessati potete scaricarlo quello di fedex play questo non è non ce l'ho disponibile se qualcuno di voi fosse interessato a a questo diciamo questa disposizione fatemelo sapere che vediamo se riesco a fare direttamente un un file per il download ok ma adesso torniamo al gioco che già abbiamo perso abbastanza tempo e eccoci qua allora quello che ho scaricato questo adesso parte va bene non so perché aspettavo mai che arrivasse ma comunque va bene il rimorchio questo qua lo sostituiremo probabilmente lo farà lo faremo in questa puntata qua e poi vi dico anche il motivo vediamo un po questo sta lavorando si sta lavorando anche questo altri lavoratori mi sembra che non ne ho più perché siamo alla fine solo questi tre in questo caso almeno dice quattro class lexion è questo qua il fang del john deere è lo scan e che il camion che è messo in esposizione allora andremo a sostituire questo qua per due motivi il primo è che mi dà sempre dei problemi con con il con il telone sopra non so perché ma non riesco ad aprirlo cioè autodrive allora se è aperto riesco ad utilizzarlo nel momento in cui lui si chiude non riesco ad aprirlo è una cosa strana 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 e poi voglio sostituirlo anche perché questo non ha la capacità per come la vorrei per il semplice motivo che è che non scarichi vedete sta chiudendo e non riesco ad aprirlo è una cosa molto molto strana cioè qua mi dice per aprirlo ripiega raccogli grano ma ripiego con la x cioè è una strana sta cosa qua mi da e non fa niente eh non la copertura non riesco ad aprirla cioè è un po' un casotto purtroppo non non riesco a capire neanche dov'è il problema un altro problema invece che mi dà è sempre quella quello più grosso che mi dà fastidio è che questa ha una capacità di 44 e il mio camion non ne ha ne ha 59 allora per farli lavorare bene insieme bisogna che abbiamo più o meno una capacità uguale adesso intanto questo l'attivo così lui mi scarica la mia titribbia e con un altro trattore prendiamo questo andiamo ad acquistare quello nuovo e questo lo vendiamo perché non mi piace allora per farlo funzionare bene con autodrive cioè per fare lavorare bene insieme perché funzionare funziona per fare lavorare bene insieme il rimorchio è il il raccogliatore lì che si chiama che non mi ricordo mai quindi è importante avere una capacità quasi simile perché se noi vabbè adesso lo scarico qua e poi dopo lo sposto in questo caso abbiamo il raccogligrano lì la che si chiama sì raccogligrano che ha una capacità di 44 la mia titribbia ne ha 18 18 18 fa 36 il che significa riempiamo il raccogligrano al 70 per cento circa cosa succede che se io faccio riempire il raccogligrano al 40 fino al 44 per cento la mia titribbia mi starà fermo un periodo di tempo e questo non lo voglio per il semplice motivo che al terzo scarico 36 al terzo scarico la mia titribbia non si scarica del tutto lui parte va a scaricare la mia titribbia continua e in due giri è di nuovo piena ed è questo quello che io non voglio ok perché nel frattempo che lui va a scaricare sul camion e ritorno la mia titribbia è piena è già piena e abbiamo dei tempi morti perché ferma e non mi piace se invece andiamo a prendere un qualcosa che somiglia come capacità al nostro camion in questo caso io ho non mi ricordo quanto era il camion qui 59 mi sembra questo è 59 ok 59 abbiamo la capacità e la possibilità di scaricare tre volte la mia titribbia perché scarica intorno ai 17 17 34 34 fai 70 ok questo è 60 il che significa che il terzo scarico o per meglio dire scarichiamo tre volte la mia titribbia precisa e tre volte la mia titribbia e viene qui a scaricare benissimo perché con tre volte siamo a 34 44 siamo intorno ai 51 51 52 mila cosa facciamo che qui lo riempiamo quasi al 90 per per cento ok allora per questo io ho bisogno di un rimorchio che ha circa la stessa capacità allora ne avevo individuato allora ne avevo individuato due questo è troppo con i 77 vediamo se cingolato o gommato e va comunque 77 ed è troppo anche perché abbiamo bisogno di 400 cavalli questo sempre 400 cavalli il trattore che ci ho attaccato io davanti adesso quanti cavalli ha perché ne ha di cavalli l'animaletto ho fatto qui fa vedere 500 perfetto ok allora volevo venderlo ma alla fine vediamo se c'è qualche offerta questo piccolo no va bene e allora io direi che questo 70 sono troppi anche se alla fine mi costa meno cosa cambia tra questo e questo cambia niente questo pesa di meno forse 19 10 tonnellate però con i 46 noi ci dobbiamo avvicinare 60 59 andrebbe benissimo questo 56 56 va bene questo 130 mila vediamo se c'è qualcosa di diverso questi sono inutili questo non va bene questi questi qua sono quelli che ho ma non mi piacciono perché mi da questo problema qua questi piccoli questi piccoli questo 70 mila 171 costa ancora di più bello è bello però costa di più e poi 70 mila no questi quanto sono 27 46 pochi no andremo su quello io direi che prendo questo prendo questo che è più leggero 10 tonnellate contro i no 2000 no 56 va del dio allora compriamo questo compriamo questo ok è la prima cosa che faccio è provo se funziona la copertura perché se la copertura mi dà dei problemi di nuovo come ha fatto con quello già mi girano un po ma lo fa vedere oh questo funziona fa vedere solo una cosa vabbè c'è solo questo va bene ok allora chiuditi e vanno sul 71 lo portiamo sul 71 allora chi è che ha finito tu di sicuro no a questo allora facciamo una cosa che questo lo andiamo a scaricare la mia tetribbia come messa avrebbe ancora poco allora si scarichiamo se non disattivo ah ma è perché ah nel frattempo ho iniziato anche il percorso cioè il percorso diciamo che dall'ultimo puntato ho lavorato un po' off screen perché ho finito le la raccolta delle balle ho finito anche l'altra missione che avevamo sul campo 70 e adesso sto facendo quella missione sul 71 entro sera spero di finirla perché non voglio lavorare di notte al solito ma ormai questa la dovrò finire probabilmente la finirò comunque se non in puntata penso non lo so adesso vediamo altrimenti la finisco off screen perché se finisce tardi non mi piace come sapete io non registro di notte non mi piace cioè faccio fatica a vederci io ho visto dei video se non sbaglio ho visto anche uno dei miei perché ho registrato anche io in uno l'ho registrato di notte e non mi piace completamente aspetta prima che vedete questo qua allora noi abbiamo i 30.000 dei due scarichi che ha fatto la mia tetribbia no? cioè questo qua per adesso trovarlo vuoto al prossimo giro dovrei farlo partire con i 30.000 invece dei 60.000 allora facciamo una cosa che qui aumentiamo la percentuale così vediamo un po' direi che 85 va bene perché se quella facciamo 50 si vedete questo parte con il 50 per cento del carico non è che è una cosa normale allora potremmo farlo il cambio qui ma ormai va bene allora tiriamola all'interno dai spero che quello lì arriva prima che la mettebbe piena così lo proviamo subito ma sta girando e ora deve sfarsi arriva quasi dai pagamento salario pagamento salario allora dove è l'altro questo questo è quello che ha finito che poi non ha finito perché quel po' lo devo raccogliere io perché non faceva parte del del percorso di autodrive ma ci siamo quasi dai cioè due volte più largo dal trattore e questo non è proprio piccolo come trattore allora 56 56 vediamo due scarichi di 3 scarichi limiti tre bianco quando quando arriviamo di percentuale poi tiriamo giù la percentuale nel momento in cui deve andare a scaricare così che abbiamo almeno tre scarichi invece che due perché allora stacco subito questo gli attacco questo che è il percorso caricato no attiviamo subito così che se quant'è 16.000 quasi e qua adesso tiro su intanto un po' da percentuale mettiamo nel 90% dopo andiamo a vedere l'autista aspetta la chiamata piano piano adesso la chiamata allora questo lo rivendiamo almeno recuperiamo qualche soldo non so di preciso quanto prenderemo ma qualche soldo lo recuperiamo speriamo che non parta adesso allora tu vai acquisti 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 acquisto shop ritira e ritira pallet shop vendi ok ok tu vai lì oh il trattore è già partito cioè alla fine abbiamo fatto un mezzo tutorial per come utilizzare sta roba qua comunque l'avevo già fatto io il tutorial per questa proprio per questa combinazione qua se mi ricordo ve lo metto a destra in alto o vi metto il link in descrizione così che se qualcuno di voi vuole andarselo a vedere non può farlo così sfruttando anche il mezzo fermo qua l'avevo fatto con se non sbaglio con i carro liquame ma la funzione è sempre uguale l'impostazione sia del dei due trattore dei due trattori diciamo che quello che in questo caso era il trattore questo che scaricava e qui c'era questo che spargeva il letame e qui c'era una botta ferma dove caricava ma anche in quel caso è utile fare combaciare le due le due capacità allora siamo a 18.000 con il 32 per cento 18 18 fai 36 e 18 46 e 8 siamo a 56 precise io direi che possiamo lasciarlo al 95 per cento ma si lasciamo al 90 vediamo cosa succede adesso quella lavora allora io nel frattempo faccio mi vado a fare quattro e tre dove sono eh però aspetta un attimo adesso cosa succede che questo già i 30.000 ce li ha quello ne ha eh due scarichi eh già si riempie di nuovo che significa forse conviene beh adesso vediamo forse converrebbe andarlo a scaricare dopo magari facciamo così che facciamo due scarichi di mie di trebbia eh andiamo eh andiamo facciamo un'altra cosa aspetta facciamo così facciamo la cosa un po' più allora tu vai così che lo troviamo vuoto abbiamo fatto fare un viaggio quasi a vuoto al 50 per cento così almeno nel frattempo quello si fa i suoi scarichi della mia di trebbia tranquilli così che abbiamo la possibilità di andare a vedere eh se effettivamente riesce a scaricare i tre scarichi o meno quindi devo far venire in mente qualcos'altro ma penso che dovrebbe funzionare per la prossima puntata ho già in mente qualcosa andremo a comprare una produzione e non di sicuro sono indeciso fra due produzioni una è quella del pellet e l'altra è quella del compost una costa molto meno l'altra costa un po' di più solo che uno ha l'autista ha raggiunto shop vendi eh vabbè vendi no? eh? aspetta un attimo che dovevo fare? ah no è quello che... vabbè che è bambito vabbè ormai siamo qui vendiamolo e becchiamo sui soldi prima che me li dimentico dov'è? ah ecco qua no no vendiamo questo quanto ci dà? rrrr 50 scarsi brutta roba se lo riparo non cambia la situazione no che ho fatto vendi 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 vuoi vendere davvero questo veicolo? sì beh abbiamo speso 100 quant'erano? 110 abbiamo beccato i 50 alla fine non è andata malissimo quanto è questo? qua si fa lo scarico ok allora continuiamo qua tanto da qui da questa bella mod riusciamo a vedere cosa succede siamo a 12.000 lo teniamo un po' sott'occhio e poi vediamo un po' quando siamo lì intorno ai 17.000 no 17 intorno ai 16.000 gli andiamo a dare un'occhiata stavo dicendo la produzione allora una era quella per il compost però ha bisogno di diesel e l'altra è quella per il pellet costa molto di più però ha bisogno solo di energia elettrica e quella ce l'abbiamo e poi ha bisogno di manutenzione e anche quella non è un problema perché anche quella ce l'abbiamo eh visto che abbiamo tutta la paglia a proposito un po' di viaggi li ho messi dentro alla alla stalla che ho riempito la stalla completamente così che almeno lì per adesso di paglia non ne abbiamo bisogno almeno per un paio di giorni poi vediamo ma tanto nel frattempo sicuramente adesso se riesco a finire questa no in questa puntata non ce la facciamo più ragazzi perché già siamo lì comunque adesso off screen finisco di fare il raccolto del campo 71 finisco di raccogliere questa paglia qua e dopo noi ci rivedremo sicuramente nella prossima puntata dove saremo a luglio così che nel frattempo sarà maturo anche l'altro nostro campo dove c'è sempre il parro se non sbaglio dovrebbe essere parro no non mi ricordo e andiamo a vedere a proposito andiamo a vedere la mia di trebbia che è quasi pronta arrivo da qua prima si infatti questo perché non scarichi dai ho bisogno di essere scaricato avvicinati si adesso si avvicino perché il problema qui è che avevo un una distanza o per meglio dire una chiamata anticipata che quella va modificata dal dalla mia di trebbia che probabilmente mi ero un po' tenuto basso qui anticipata all'ottanta per cento eh infatti possiamo chiamarla anche all'ottantacinque scarichiamo mentre mentre va non lo so non penso forse meglio di no perché se arrivo poi alla fermata lì cioè alla fermata se arriva a fine campo poi succede un casino meglio meglio lasciare così aspettiamo due secondi in più tanto non cambia niente allora vediamo quanto siamo ups mezzo alla lama siamo al 35 36 36 più altri 17 circa andremo a 46 e 7 andremo a 53 54 questo è perfetto abbiamo una capacità precisa per sfruttare al massimo al massimo sia questo rimorchio qua che l'altro rimorchio in questo caso abbiamo fatto combaciare la media di trebbia il rimorchio questo è il rimorchio del cam ragazzi se ci volete se volete utilizzare una combinazione come questa vi consiglio poi fate come volete vi consiglio di stare attento alle capacità ragazzi questo è tutto per questa puntata qui noi ci vedremo domani sempre qui sull'app di generale un salutone ciao ciao